Via di Burtina 88, via di Burtina 88, doveva un accoltellamento E' un ottimo staggianto, doveva fare il passato, all'energia con il passato Ok, vai a sinistra, vai a sinistra. Sì, le stagini che si stanno portando a... in discursiva... a Piazza dei Cicoli... l'autore è in... Vai, vai, vai. L'autore, in discursiva, signorato a Piazza dei Cicoli, l'uomo va in fronte, il cartello, donna con Tyler, sentito zero. No. Sì, sono appresso. 8-3-9... Sì, siamo sul posto, siamo a Piazza dei Cicoli, andiamo in Piazza dei Cicoli, è là il soggetto, Piazza dei Cicoli 5, sta scostando. Siamo sulla piazza, siamo sulla piazza, siamo sulla piazza, stiamo andando al Toro, siamo sulla piazza. andiamo nella piazza dei Cicoli e poi andano dietro, andi dietro, andi dietro. andiamo a Cicoli andiamo la piazza daピ gitolo. andiamo a Estepio Zamani! Andiamo a Cicoli Andiamo a Cicolioughs! c'è la definizione del soggetto? allora un senso addizione di mora, uomo, maglia rossa e cartello è accompagnato con una nonna, con un ozzairo, la donna è vestita di nero la donna è vestita di nero non è lui pare che si stiano costando verso termine se viene sul chiale prezoriano verso termine ha detto, ha detto verso termine, la descrizione ce la vedo? maglietta rossa? maglietta rossa lui e lei è vestita di nero ok, quindi uomo e donna uomo e donna è la domanda vogliamo andare a vedere già c'è l'autoradio è per lui si vada un po' ecco lì Vai, 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 eccolo là, all'interno della piazza, vai. Centro ricevi? Vai, comunque vai. Era per sollecitare l'ambulanza che qui ancora non è giunta, è il soggetto che ha ancora sangue. Un uomo è un uomo, un altro lì, un altro lì, un altro lì, un altro lì. Quella che noi sentiamo, è stata lì, quella che noi sentiamo, è mediamente. Allora, se lo porteranno qua, fuori pieni, fatto prezzo? No, no. Ha detto che era il figlio del Pasquone. il cuore battuglia la noventana 3945 per il sporco di sangue guarda fa un puntaggio in via di pietra nata c'entro da charlie tango allora per notizia noi ci stiamo sganciando ci avviciniamo all'arma eur per il relativo fotosegnalamento unitamente alle due autoradio per le due persone fermate un uomo e una donna entrambi privi di documento verosimilmente ritenuti responsabili dell'accoltellamento altro cittadino extracomunitario le autoradio sono la 839 e la 709 poi li raguagliamo con gli ulteriori particolari il ritorno 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 in